La Ida, l'Associazione Italiana Difesa Animali Ambiente, lancia un accorato appello al Governo affinché prenda i giusti provvedimenti nei confronti di quelle persone che lasciano i cani sui balconi negli orari di maggior caldo e per oltre 5 ore consecutive e attaccati alla catena. La Ida chiede che queste pratiche vengano inserite tra i reati di maltrattamento con una semplice integrazione all'articolo 544 del codice penale maltrattamento di animali e che questi reati vengano perseguiti penalmente. In attesa di questo passo decisivo del Governo il Presidente dell'Aida, Lorenzo Croce, fa un appello al Presidente dell'Anci e ai sindaci di città e paesi italiani affinché predispongano da subito ordinanze rigorose e inflessibili per vietare di tenere i cani alla catena sui balconi e nei capanni isolati al sole coccente durante i periodi di maggiore calura estiva ed almeno nelle ore centrali della giornata, anche perché il dato in Italia è piuttosto allarmante, pensate sono oltre 500.000 i cani tenuti alla catena e oltre 700.000 vivono in maniera quasi perenne sui balconi.